Un buonasera a tutti di Alfredo Mamugari e questa sera nonostante non ho dormito neanche oggi sapete lavoro di notte non dormo mai nel giorno né notte nel giorno né notte ho sempre occhi insomma praticamente c'è uno che mi sta martellando ma no da oggi saranno 6-7 anni che mi sta dire Alfredo e mi devi fare la scala che fa di battaglia su io sono vivo cioè roba che io poi facevo quando ero ragazzetto col gruppetto mio c'avevo Mauro alla batteria, Cataldo al basso, Silvano alle tastiere, io alla chitarra facevamo i BUP sicché io mi ricordo questa scala benissimo perché la facevamo sta canzone io sono vivo l'avevamo fatta anche addirittura su un palco lì a Ostia con tutta gente dal vivo per cui me la ricordo bene però ho sempre detto a me non mi vado a rifare la roba dell'artrica a me mi piace far vedere delle cose mie e invece no mi devo trovare a fare cose che mi chiedono mi chiedono mi chiedono mi chiedono mi chiedono addirittura se non me la fai vuol dire che non la sai fare allora lì mi tocchi proprio sul... ah si puoi la sfida allora allora fama la sfida allora io adesso abbasso vi faccio vedere a questo ragazzo scusatemi a voi direte ma Alfredo ma che ce fai i BUP un chitarista come te però io devo levare la fissa a questo allora praticamente mo ti metto la base e te la faccio sentire è il la minore senti la minore partito al tredicesimo tasto qua ripeto ripetiamo 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 dopo dici ma non ho fatto senti bene però mo sentila bene mo la rifaccio anche se non la fa lui di nuovo ripetiamo ripetiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla sentire per l'ultima volta. Adesso.